Ciao a tutti, sono Salvo e oggi vi parlo del Midi-Sit. Il colore di questo drink è rosso come le spade laser dei siti che rappresentano il lato scuro della porta. Questo cocktail è composto da bitter mulassano, amara amara, liquore alla licurizia, sciroppo di zenzero e soda. Scegli il Midi-Sit, unisciti al lato oscuro.